È tradizione che ogni anno la parrocchia di Premolo faccia un pellegrinaggio il giorno stesso della festa della Madonna della Lacrima qui al santuario di Ponte Nossa e celebri la Santa Messa proprio il parroco di Premolo e in realtà sotto c'è un motivo diciamo storico e anche di tradizione e cioè pare che storicamente l'edificazione di questa chiesa sia stata grazie alla collaborazione delle parrocchie vicine quindi della parrocchia di Premolo e della parrocchia di Parre inoltre pare che storicamente la parrocchia di Ponte Nossa sia stata edificata in un tempo successivo quindi il territorio di questo santuario sorgeva sulla parrocchia di Premolo questo fa sì che ci siano questo privilegio del parroco di Premolo e della parrocchia di Premolo nel celebrare almeno una Santa Messa il giorno stesso della festa della Madonna della Lacrima 499 anni fa la Madonna il 2 giugno esattamente nel 1511 ha lacrimato in un'antica cappelletta che c'era dove adesso c'è questo santuario su un affresco di Giacomo Busca una bambina ha asciugato le lacrime la contrade era di 170 abitanti si è cominciato la Madonna ha chiesto di costruire questo tempio che voi vedete e da una comunità di 170 abitanti si è passata a una comunità di più di 2000 importante il fatto perché le comunità anche vicine specialmente Premolo, Gorno, Oneta e Parre hanno contribuito alla costruzione di questo santuario che è diventata chiesa parrocchiale nel 1575 la lacrimazione è il miracolo più antico della Bergamasca? sì questa lacrimazione è certificata proprio da un atto notarile del 1511 e quindi è la lacrimazione quindi un'apparizione una lacrimazione più antica almeno d'Italia e questo ci dà ecco questo atto notarile che noi possediamo nell'archivio si dà la certezza inconfuttabile che questo fatto sia proprio avvenuto nel 1511 e che questa lacrimazione importante dia a questo santuario la certezza di essere un monumento nazionale e quindi una lacrimazione antichissima durante l'anno ci sono parecchi pellegrinaggi e parecchi ne aspettiamo anche per il 2011 ovviamente che è l'anno del 500esimo seppur non è conosciutissima ecco conosciutissima e naturalmente i media ne hanno parlato pochi anni fa e hanno proprio riconosciuto la bontà di tutto questo che noi stiamo dicendo e quindi aspettiamo che anche a livello non solo locale venga maggiormente diciamo divulgata questa cosa in modo che i pellegrinaggi possano essere maggiori è una festa ovviamente che è sentita nella nostra zona e noi ci auguriamo sicuramente che per il 1511 come detto prima sia maggiormente sentita le popolazioni si inginocchiano davanti a Maria e Maria non ha mai negato nel passato e nel presente anche nessuna grazia a quanti a lei si accostano davanti a questo dipinto e quindi un motivo importante per legare le nostre comunità e per legare tutte le nostre vallate Grazie Grazie Grazie.